ok come stai vedendo sto andando qua se vedi ho altamente zero alfapack quindi adesso andrò ad aprirne uno cioè a comprare ad aprire uno vedi zero zero ok quindi andiamo su tieni pacchetti andiamo questo da 5000 sblocchiamo si dai almeno speriamo che trovo qualcosa apriamolo anche adesso tanto ok dai dai che trovo qualcosa ok rara rara mi va bene mi va bene questa skin mi va bene anche se non è per gli operatori che uso di più mi va bene vabbè dai trovo mando ciò